Buon pomeriggio amici, ben ritrovati sul mio canale con un nuovo video, si è appena conclusa la sfida dello stadio adriatico tra Pescara e Monza. Purtroppo, dopo la bella vittoria col Venezia e il 5-0 a Lentella, Pescara 3, Monza 2. Io parto subito dicendovi che Christian Brocchi non può cambiare l'11 titolare ogni volta. Non può, non può, non può. C'è Bellucci che sta bene, deve giocare Bellucci con Bettella perché ovviamente Paletta è infortunato e deve giocare Bellucci con Bettella. No, mette Scaglia. Scaglia. Scaglia, colui che nella sfida di Coppa Italia con la Spal ha causato il rigore e si è fatto saltare nel 2-0. Partita veramente strana, iniziata con il vantaggio del Pescara di Galano, che porta il vantaggio del Pescara. Poi partita, diciamo, parecchia equilibrata con il Monza che ha trovato il pareggio con il colpo di testa di Bettella. Poi il Pescara è ripassato in vantaggio con il rigore dell'espulsione di Scaglia. Il genio, Pippo Scaglia, che salta col braccio, col braccio alzato, prende pallone nettamente col braccio. L'arbitro dà il rigore, Scaglia è ammonito, viene espulso. Se non sbaglio, Seter, insomma, si è Seter, fa 2-1 per il Pescara. Ma poi il Monza, nonostante l'inferiorità numerica, fa i cambi. Entra Andrea Del Rico, entra anche Carlos Augusto, entra anche Barillà, fa i cambi. Via Macin, sostituito, Bellucci è entrato al posto di Barberis per togliere un centrocampista per metterlo in difensore, vista l'espulsione di Scaglia. Pallone di Bellucci, alto per Boateng, Boateng in mezzo, Bettella ancora di testa, spettacolo. Doppietta per l'ex di turno, per Davide Bettella, è partita sul 2-2, quando uno si sarebbe anche accontentato del pareggio. Diciamo che mi sarei accontentato di prendere un punto, anche se contro il Pescara era da vincere questa partita, era da prendere i tre punti, da portare via i tre punti dallo stadio adriatico di Pescara. Cosa succede? Che il Pescara fa 3-2 e la partita si conclude con il 3-2 del Pescara, firmato dall'ex Genoa e Milan, Salvatore Bocchetti. La palla è in area, di Gregorio per terra, la palla respinta di Nino Barillà su Bocchetti, che in sacca. E fa 3-2 per il Pescara. E io vi dico che Brocchi deve scegliere una formazione e tenere sempre quella. Non può fare i cambi, non può fare il turnover ogni partita. Una partita gioca Scaglia con Bettella, una gioca Bellucci, una gioca quando c'è paletta. Poi, Macin, veramente, io non lo voglio vedere più, però vabbè, che cosa dobbiamo fare? Cioè, e soprattutto Dani, Mota, Carvaio deve partire titolare, anche Derrico. Derrico e Mota devono partire titolare, non è possibile che fa giocare Macin quando gente del calibro di Derrico e Mota è in panchina. Non è possibile, non è possibile. Deve scegliere una formazione, deve far giocare i migliori. Vabbè che anche oggi mancava Getchior, però Maric non è pervenuto. È partito in attacco con Frattesi e Macin. Frattesi è un centrocampista, può giocare a centrocampo, nelle ultime non ha fatto bene. Però è un buon centrocampista e doveva giocare a centrocampo, non davanti. Secondo me doveva partire Boateng, Mota e Maric davanti. Ma Boateng non si discute, però Derrico, Derrick e Mota devono partire assolutamente titolari. In Moza deve partire con Derrick e Mota titolari. Macin basta. E poi vi dico una cosa, che secondo me alla prossima partita, quella in settimana contro Lascoli, sicuramente vedremo la manna. Sicuramente. Vedremo in porta la manna, è così. E niente, dispiace per non aver preso i tre punti. Mi sarei accontentato a malinquare di un punto, però neanche quello. E niente, speriamo di far bene con Lascoli alla prossima. Io vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi se non l'avete ancora fatto al canale, ad attivare la campanellina per non perdere le notifiche quando escono i video, a lasciare un commento con le vostre impressioni. E niente, io vi saluto e sempre, forza Monza dai Bagai! Grazie. 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 Grazie.